Entrarono nella stanza, quasi contemporaneamente allo Starek, che a loro apparire si era subito affacciato alla sua cameretta. Nella cella si trovavano già due religiosi dell'eremo che aspettavano che lo Starek uscisse. Uno era il padre bibliotecario, l'altro il padre Paesi, un uomo malato, non ancora vecchio, ma molto erudito, secondo quel che si diceva. In piedi, da una parte, e vi rimase poi tutto il tempo, c'era inoltre un giovanotto in soprabito borghese, che dall'aspetto poteva avere ventidue anni, un seminarista e futuro teologo, protetto per qualche ragione dal monastero e dall'ordine. Era abbastanza alto, aveva un viso fresco, larghi zigomi e piccoli occhi castani, intelligenti e svegli. Il suo volto esprimeva una deferenza profonda ma dignitosa, senza alcun servilismo. All'ingresso degli ospiti non si inchinò neppure come se non si considerasse un loro pari, ma inferiore e dipendente. Lo Starek Zosima si presentò accompagnato da un novizio e da Aliosha. I religiosi si alzarono e lo salutarono con un profondissimo inchino fino a sfiorare il pavimento con le dita, quindi, ricevuta la sua benedizione, gli baciarono la mano. Dopo averli benedetti, lo Starek rispose a ciascuno dei due con un inchino altrettanto profondo anche lui, fino a toccare il pavimento con le dita e chiese a ciascuno a sua volta la benedizione. Tutta questa cerimonia si svolse in modo molto solenne, ben diverso da una qualunque formalità quotidiana, ma quasi con una certa commozione. A Miusov, però, sembrò che tutto ciò fosse fatto con l'intento di suggestionare i presenti. Egli si trovava lì, in piedi, davanti a tutti i compagni con cui era entrato. Avrebbe dovuto, e anzi ci aveva pensato già la sera prima, al di là di qualsiasi sua convinzione, ma per pura cortesia, visto che in quel luogo si usava così, avvicinarsi allo Starek per farsi dare la benedizione. Almeno la benedizione, senza baciargli la mano. Ma ora, vedendo tutti quegli inchini e quei baciamani tra i religiosi, cambiò idea in un attimo. Grave e compunto, fece un inchino abbastanza profondo, come era in uso in società, e si diresse verso una sedia. Allo stesso modo si comportò Fyodor Pavlovich, imitando punto per punto Miusov come una scimmia. Ivan Fyodorovich si inchinò con molta serietà e correttezza, ma anche lui tenne le braccia lungo i fianchi, quanto a Kalganov si confusi a tal punto che non si inchinò affatto. Lo Starek lasciò cadere la mano, che già si alzava, per benedire, e fatto loro un altro inchino, li pregò tutti di sedersi. Il sangue affluì alle guance di Alyosha, la vergogna lo invase, i suoi tristi presentimenti si stavano avverando. Lo Starek si sedette sopra un divanetto di mogano rivestito in pelle di foggia molto antiquata, mentre fece accomodare gli ospiti, fatta eccezione per i due religiosi, lungo la parete di fronte, tutti e quattro in fila, ma su quattro sedie di mogano, ricoperte da un cuoio nero assai logoro. I religiosi sedettero ai lati, uno vicino alla porta, l'altro accanto alla finestra, il seminerista, Alyosha e il novizio restarono in piedi. La cella non era molto spaziosa e aveva un aspetto misero. Gli arredi e i mobili erano grezzi di scarso valore e limitati allo stretto necessario. Due vasi di fiori sulla finestra e in un angolo molte icone, tra le quali una della vergine di enormi dimensioni e dipinta probabilmente molto tempo prima dello scisma. Davanti ad essa ardeva un piccolo lume. Lì accanto c'erano altre due icone con i loro fulgi di rivestimenti, poi dei piccoli cherubini scolpiti, delle piccole uova di porcellana, un crucifisso cattolico d'avorio con una mater dolorosa che la abbracciava e alcune incisioni straniere che riproducevano opere di grandi artisti italiani dei secoli passati. Accanto a queste eleganti e costose incisioni spiccavano molte delle più popolari litografie russe, con santi, martiri, prelati e così via, di quelle che si vendono per pochi soldi in tutti i mercati. C'erano poi, ma su altre pareti, anche alcuni ritratti litografati di vescovi russi antichi e contemporanei. Mioso percorse con un rapido sguardo tutta quella chincaglieria e fisso gli occhi sullo starec. Faceva grande affidamento sul proprio colpo d'occhio, era una sua debolezza, del resto perdonabile se si considera che aveva ormai 50 anni, età in cui un uomo di mondo, intelligente e facoltoso, acquisisce sempre, talvolta anche senza volerlo, una maggiore stima di sé. Fin dal primo momento lo starec non gli piacque. In realtà il suo volto aveva qualcosa che poteva non piacere anche a molti altri, oltre che a Miusov. Era un ometto basso e curvo, dalle gambe assai deboli, di soli 65 anni, ma la malattia lo faceva sembrare molto più vecchio, di almeno 10 anni. Tutto il suo viso, piuttosto magro, era completamente segnato da rughe minute e sottili, soprattutto intorno agli occhi. Gli occhi poi erano piccoli, chiari, rapidi e brillanti come due punti luminosi, i pochi capelli brizzolati non gli erano rimasti che sulle tempie. La barba a punta era minuscola e rada e le labbra, spesso sorridenti, erano sottili come due fili. Il naso non era lungo, ma aguzzo come il becco di un uccello. Secondo tutti gli indizi, passò per la mente di Miusov, un animo meschino, maligno e altezzoso. Egli era assai malcontento di sé. I rintocchi dell'orologio aiutarono l'inizio della conversazione. Una piccola pendola di poco prezzo scoccò rapidamente le dodici in punto. «Proprio l'ora stabilita!» esclamò Fyodor Pavlovich. «E mio figlio Dimitri Fyodorovic non si vede ancora, mi scuso per lui, è reverendissimo Starek». All'udire questo reverendissimo Starek, Aliosha ebbe un sussulto. «Io invece sono sempre puntuale al minuto, perché tengo sempre a mente che l'esattezza è la cortesia dei re». «Ma non mi pare proprio che voi siate un re, borbottò Miusov, che non poté più contenersi». «Sì, è vero, non sono re, e pensate, Pietro Aleksandrovich, che lo sapevo anch'io, per bacco. Ecco, parlo sempre a sproposito, reverendissimo!» esclamò con un improvviso patos. «Voi avete qui davanti a voi un buffone, un vero buffone, è così che mi presento una vecchia abitudine, ahimè, ma se qualche volta blatero a sproposito lo faccio intenzionalmente, con l'intenzione di fare ridere e di piacere agli altri, bisogna pur piacere, non trovate. Una volta, più o meno sette anni fa, arrivo in una cittadella in cui avevo alcuni affarucci e stavo per combinare una società con dei piccoli commercianti. Andiamo dal capo della polizia locale, dall'Ispravnik, per chiedergli una certa cosa e invitarlo a colazione con noi. Si presenta l'Ispravnik, un uomo alto, grosso, biondo e accigliato, individui più pericolosi, in simili casi pieni di bile. Io gli vado subito incontro e gli dico, sapete, con quella disinvoltura da uomo di mondo, signori Spravnik, siate, per così dire, il nostro Napravnik. E chi è questo Napravnik? Domanda. Io vedo subito di primo acchito che la faccenda ha preso una brutta piega, che gli resta serio, duro. Io? Gli spiego. Volevo scherzare per rallegrare la comitiva, dato che il signor Napravnik è il nostro direttore d'orchestra e che a noi occorre, appunto, per l'armonia della nostra impresa, una sorta di direttore d'orchestra. Spiegazione e paragone erano ragionevoli, non credete? Scusate, mi dice, io sono l'Ispravnik e non ammetto che con il mio titolo si facciano dei giochi di parole. Mi volta le spalle e se ne va. Io gli corro dietro, grido, sì, sì, voi siete l'Ispravnik e non Napravnik. No, dice, e poiché l'avete detto, significa che per voi sono un Napravnik. E figuratevi che il nostro affare andò a monte. E io sono così. Sono sempre così. Di certo mi danneggio con la mia piacevolezza. Di certo mi danneggio con le mie piacevolezze. Una volta, molti anni fa, dissi a un personaggio autorevole vostra moglie e una donna che è guai a stuzzicarla, intendendo in fatto di onore, di qualità morali, diciamo così. E lui, di rimando, perché avete provato a stuzzicarla? Non riuscì a trattenermi via, pensai, scherziamoci su. Sì, dico, l'ho stuzzicata. E a quel punto fu lui che stuzzicò me. Ma è una cosa avvenuta così tanto tempo fa, che ormai neanche mi vergogno più a parlarne, ecco. Come riesco a recare danno a me stesso. Sempre. Ve ne recate anche adesso, borbottò Miusov, con disgusto. Lo Starek osservò in silenzio, ora l'uno, ora l'altro. Proprio. Figuratevi che sapevo anche questo, Piotr Aleksandrovich, e anzi, ci credete. Immaginavo che sarebbe andata così fin da quando ho aperto bocca, e immaginavo persino che voi sareste stato il primo a farmelo notare. In questi momenti, quando vedo che lo scherzo non mi riesce, reverendissimo padre, mi si seccano le gengive di sotto, e mi vengono quasi le convulsioni. Questo mi capita fin da quando ero giovane, quando facevo il parassita in casa dei nobili, e da parassita mi adagnavo il pane. Io sono un buffone di natura, reverendissimo. Ci sono nato buffone, proprio come un altro nasce Iurodivi. Non nego che in me possa esserci anche uno spirito immondo, ma di piccolo calibro, in caso, se fosse stato un po' più importante, si sarebbe scelto un'altra dimora. Non la vostra, però, Piotr Aleksandrovich, perché anche voi non sareste per lui una gran dimora. Ma almeno io credo, io credo in Dio. Solo negli ultimi tempi ho avuto qualche dubbio, ma ora sono qui, in attesa di sublimi parole. Io, reverendissimo, sono come il filosofo di Drô. Lo sapete, Santissimo Padre, come si presentò il filosofo di Drô al metropolita Platon, al tempo dell'imperatrice Caterina? Entra e di colpo gli dice, Dio non c'è. Al che il grande prelato solleva il dito e risponde, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. E quello di colpo si getta sui piedi. Credo, grida, e voglio ricevere il battesimo e fu subito battezzato. Lì, sul posto, la principessa Daskova fu la madrina e Potjomkim, il padrino. Fyodor Pavlovich, questo è intollerabile. Sapete benissimo che mentite che questo stupido aneddoto è falso. Perché fate il pagliaccio? Esclamò con voce tremante Miusov, ormai incapace di trattenersi ancora. Oh, per tutta la vita ho avuto il presentimento che fosse una menzogna, esclamò Fyodor Pavlovich con fervore. Ma vi dirò tutta la verità, signori, nobile stare, perdonatemi. L'ultima parte sul battesimo di Drô l'ho inventata io stessa all'ultimo momento, mentre stavo raccontando. Prima non mi era mai passata per la testa. L'ho inventata per rendere la storia un po' più piccante e faccio il pagliaccio. Piotr Aleksandrovich per essere più simpatico. Qualche volta del resto neanch'io so il perché. Quanto a Drô, tuttavia, ho sentito quel lo stolto addetto almeno una ventina di volte dai possidenti di qui, fin da quando ero giovane e frequentavo le loro case. Tra l'altro, Piotr Aleksandrovich, l'ho sentito anche dalla vostra zietta, Mavra Fuminska. Tutti loro sono convinti ancora oggi che l'ateo di Drô sia andato dal metropolita Platon per discutere di Dio. Miusov si alzò. Non solo aveva perso la pazienza, ma ormai era quasi fuori di sé. Era furioso e sapeva perfettamente che così si rendeva ridicolo. In realtà nella cella stava accadendo qualcosa di inaudito. In quella stessa cella i visitatori si radunavano già da 40 o 50 anni, fin dal tempo degli starsi precedenti, ma sempre con la più profonda devozione, mai altrimenti. Quasi tutti quelli che vi erano ammessi comprendevano, entrando nella cella, che si accordava loro un enorme favore. Molti cadevano in ginocchio e non si alzavano per tutta la durata della visita. Anche i numerosi personaggi delle elite sociali o culturali e persino alcuni liberi pensatori che venivano per curiosità o per altri motivi, si prefiggevano tutti come primo dovere, entrando nella cella con altri o ricevendo un colloquio individuale, di avere per lo starec la massima deferenza e delicatezza durante l'intera visita. Tanto più che qui non c'era di mezzo il danaro, ma solo amore e misericordia da una parte e dall'altra pentimento e ansia di risolvere qualche arduo problema spirituale o un momento difficile della propria vita privata. Tutte queste buffonerie di Fyodor Pavlovich, quindi, prive di ogni rispetto per il luogo in cui si trovava, suscitarono nei presenti, o almeno in alcuni di essi, sconcerto e stupore. I due religiosi, la cui espressione non era in alcun modo mutata, attendevano seri ed attenti che lo starec parlasse, ma sembravano già in procinto di alzarsi come aveva fatto Miusov. Aliosha era lì per scoppiare a piangere e stava in piedi, a testa bassa. Soprattutto gli sembrava alquanto strano che suo fratello Ivan Fyodorovich, il solo in cui confidava al solo che aveva sul padre tanta autorità da poterlo trattenere, rimanesse ora immobile sulla propria sedia, con lo sguardo a terra, e aspettasse di vedere con avida e visibile curiosità come si sarebbe risolta tutta questa storia, quasi fosse un perfetto estraneo. Aliosha non aveva neanche il coraggio di guardare Rakitin, il seminarista con cui era in rapporti molto stretti, conosceva bene i suoi pensieri ed era il solo in tutto il monastero a conoscerli. Perdonatemi, cominciò Miusov rivolgendosi allo starec, forse vi potrà sembrare che anch'io sia complice di questa indegna buffonata. Il mio errore consiste nell'avere pensato che anche un essere come Fyodor Pavlovich, facendo visita a una persona tanto rispettabile, avrebbe voluto capire i suoi doveri. Non immaginavo certo che avrei dovuto chiedere scusa per il semplice fatto di essere venuto qui con lui. Peter Aleksandrovich non terminò la frase e tutto confuso stava già per uscire dalla stanza. Non vi agitate, vi prego. E lo starec si alzò a un tratto dal posto sulle sue deboli gambe e prendendo Piotr Aleksandrovich per le mani, lo fece di nuovo sedere sulla poltrona. Tranquillizzatevi, ve ne prego. Vi prego vivamente di onorarmi della vostra presenza. E con un inchino si voltò per tornare sul suo divanetto. Venerando starec, ditemi, vi offendo forse con la mia esuberanza? Esclamò a un fatto Fyodor Pavlovich, aggrappandosi con entrambe le mani ai braccioli della poltrona come se si preparasse a saltar su, a seconda della risposta. Prego vivamente anche voi di non agitarvi e di non sentirvi a disagio, gli rispose lo starec con accento penetrante. Fate come se foste a casa vostra, ma soprattutto non vergognatevi tanto di voi stesso perché solo questa è la fonte di tutto. Proprio come a casa mia, cioè nel mio aspetto naturale, oh questo è molto, è troppo, ma accetto, commosso, sapete, padre benedetto, non mi invitate ad assumere il mio aspetto naturale, non correte questo rischio, neanch'io arriverei mai al punto di mostrarmi al naturale, ve lo dico per mettervi in guardia, beh, tutto il resto è ancora immerso nelle tenebre dell'ignoto, sebbene alcuni abbiano già voluto dipingere il mio ritratto. Questa è per voi, Epiter Aleksandrovich, ma a voi, santissima creatura, ecco cosa dico, io sono colmo di esultanza. Egli si alzò e sollevando, le braccia, disse, beato il grembo che ti portò e le mammelle che ti allattarono, le mammelle, soprattutto con la vostra osservazione di poco fa. Non vergognatevi tanto di voi stesso perché solo questa è la fonte di tutto. Voi mi avete come passato da parte a parte, mi avete letto dentro, infatti quando vado da qualcuno mi sembra sempre di essere il più miserabile di tutti e che tutti mi prendano per un buffone. E quindi mi dico, allora facciamo davvero il buffone? Io non temo i vostri giudizi perché voi tutti siete più stupidi e più miserabili di me, dal primo all'ultimo. Ed ecco perché sono un buffone. Sono un buffone per vergogna, venerando stare, per vergogna. È solo per diffidenza che faccio lo spavaldo. Se solo fossi certo, sapete, che quando mi presento siano tutti pronti ad accogliermi subito come una persona intelligente, simpatica. Dio, come sarei buono allora, maestro! Di colpo si buttò in ginocchio. Che devo fare per assicurarmi la vita eterna? Anche adesso era difficile capire se scherzasse o se fosse realmente così commosso. Lo stare alzò gli occhi su di lui e con un sorriso gli disse. Voi stesso sapete da molto tempo che cosa dovete fare. L'intelligenza non vi manca. Non abbandonatevi all'ubriachezza e alla sguaiataggine. Non abbandonatevi alla lussuria e specialmente all'adorazione del danaro. E chiudete le vostre bettole, se non tutte, almeno due o tre, ma soprattutto la cosa più importante è che non mentiate. Ah, questo a proposito di Didro, vero? No, non a proposito di Didro. L'importante è che non mentiate a voi stesso. Chi mente a se stesso e ascolta la propria menzogna arriva al punto di non sapere più distinguere la verità né in sé né intorno a sé e comincia a perdere la stima di sé e degli altri, non rispettando più nessuno cessa di amare. E così, privo di amore, per trovare qualcosa che lo tenga occupato e distratto, si abbandona alle passioni e ai piaceri grossolani e si spinge nei suoi vizi fino alla bestialità e tutto per le continue menzogne che racconta agli altri e a sé stesso. Chi mente a sé stesso è anche il più suscettibile alle offese. A volte è molto piacevole offendersi, non è vero. Eppure quest'uomo sa bene che nessuno lo ha offeso, che egli stesso si è inventato un affronto e ha mentito per farsi bello, per ravvivare le tinte del dipinto, che si è attaccato alle parole e di un granello di sabbia ha fatto una montagna. Egli lo sa bene e tuttavia è il primo ad offendersi e si offende fino a prenderci gusto, fino a trarne la massima soddisfazione e in questo modo arriva al rancore vero e proprio. Ma alzatevi da terra, tornate a sedere, ve ne supplico, anche questi sono gesti insinceri. Uomo benedetto, lasciate che vi baci la mano. E Fyodor Pavlovich balzò su e fece rapidamente schioccare le labbra sulla mano scarna dello starec. È vero, è proprio così, è piacevole offendersi. Voi l'avete detto così bene, come ancora non mi era mai capitato di sentire. Proprio così, proprio così, in tutta la mia vita mi sono sempre offeso fino a provarmi piacere. Mi sono offeso per un senso estetico, perché l'essere offeso non solo è piacevole, ma a volte è anche bello. Ecco una cosa di cui vi siete scordato, venerando Staric. Bello, lo annoterò sul taccuino. E ho mentito, ho mentito per tutta la vita, ogni giorno e ogni ora. In verità io sono la menzogna, il padre della menzogna. No, forse non il padre, mi confondo sempre con i testi. Beh, anche il figlio della menzogna gli sarebbe sufficiente. Però, angelo mio, qualche volta si può anche parlare di Didro. A Didro non fa male a nessuno, sono altre le parole che possono nuocere. A proposito, venerando Staric, quasi dimenticavo. Già tre anni fa mi ero proposto di informarmi, di venire qui a indagare, a chiedervi una spiegazione, dite solo a Peter Aleksandrovich di non interrompermi. Ecco cosa vi voglio domandare. È vero, padre santo, quel che si racconta... Ah, dite solo a Peter Aleksandrovich di non interrompermi. Ecco cosa vi voglio domandare. È vero, padre santo, quel che si racconta in un passo del menologio di un certo santo taumaturgo martire per la fede che dopo essere stato decapitato si alzò, raccolse la sua testa, la baciò con amore e camminò a lungo sempre portandola tra le mani e baciandola con amore. È vero o no, padri venerandi? No, non è vero, disse lo stare. Nulla di simile esiste in nessun menologio, dite di che santo si racconta tutto ciò, domandò uno dei religiosi, il padre bibliotecario. Ah, di quale? Non lo so neanch'io, non lo so, non ne ho idea. Mi hanno indotto in errore, me l'hanno riferito. L'ho sentito raccontare, e sapete da chi? Da questo stesso Peter Aleksandrovich Musov, che un momento fa è andato su tutte le furie per Didro. Fu lui a raccontarlo. Io non vi ho mai raccontato una cosa simile, poi con voi non parlo mai. Ah, è vero, non lo raccontaste a me, lo raccontaste in una compagnia nella quale mi trovavo anch'io, quattro anni fa. E se l'ho tenuto a mente è perché con questo racconto grottesco voi avete scosso la mia fede, Peter Aleksandrovich. Voi non potevate saperlo né supporlo, ma io tornai a casa con la fede vacillante. Ed allora ho vacillato sempre più. sì, Peter Aleksandrovich. Voi siete stato la causa di una grande caduta, altro che Didro. Fyodor Pavlovich aveva assunto un ardore patetico, benché tutti ormai capissero chiaramente che stava di nuovo recitando. Musov, però, era stato punto sul vivo. Sciocchezze, nient'altro che sciocchezze, borbottò. Può darsi che una volta l'abbia detto davvero, ma non a voi. Anche a me è stato riferito, ne ho sentito parlare a Parigi, da un francese, sosteneva che da noi si leggerebbe questo passo nel menologio durante la messa. Era un uomo di grande cultura, specializzato soprattutto nello studio delle statistiche russe. Aveva vissuto a lungo in Russia. Quanto a me il menologio non l'ho letto, nello leggerò mai. E poi a pranzo si dicono tante cose. E noi quella volta pranzavamo. Già. Voi quella volta pranzavate, mentre io ho perso la fede, commentò sarcastico Fyodor Pavlovich. Ma che me ne importa della vostra fede, stava per gridare Musov, ma si trattenne subito, dicendo con disprezzo. Voi letteralmente insudiciate tutto ciò che toccate. Lo starec si levò all'improvviso dal suo posto. Scusate, signori, se ora vi lascio per pochi minuti, disse rivolgendosi a tutti i visitatori, ma mi aspettano delle persone giunte ancora prima di voi. Voi però, non mentite, aggiunse voltandosi con viso gaio verso Fyodor Pavlovich. Egli uscì dalla scella. Alyosha e il novizio si precipitarono per far discendere la scala. Alyosha si sentiva soffocare, era felice di uscire, ma era anche felice che lo starec, per nulla offeso, fosse di buon umore. Lo starec si diresse verso la veranda per benedire quanti lo attendevano. Ma Fyodor Pavlovich, tuttavia, lo fermò sulla porta della cella. Creatura beatissima, esclamò con sentimento, permettetemi di baciarvi ancora una volta la mano. Con voi si può ancora parlare, si può vivere. Credete che io menta sempre o faccia sempre il buffone a questo modo? Sappiate che finora mi sono presentato così di proposito per mettervi alla prova. Finora non ho fatto altro che tastare il terreno per vedere se con voi si può vivere, se c'è posto per la mia umiltà accanto alla vostra fierezza. Ora vi lascio un attestato di lode. Con voi si può vivere. E adesso taccio, non parlo più. Rimarrò seduto sulla poltrona in silenzio adesso. A voi la parola. Peter Aleksandrovich, siete voi ora il personaggio più importante per dieci minuti.